Storico, giudice, io mi ci metto anche come narratore, sono tre mestieri che hanno, specialmente se scrivi un romanzo storico, qualcosa di profondamente simile, lo storico e il giudice hanno il dovere di accertare un fatto quando gli si propone risalendo alle fonti, per esempio è facile imbattersi sia in una sentenza che in un testo storico nella circolarità delle fonti, accade quando una fonte, un testimone oculare sviluppa un certo racconto, altri testimoni assistono non al fatto ma al racconto e poi lo riportano a loro volta amplificandolo o modificandolo, un testo mediocre così come una sentenza scritta male riporteranno sei o sette narrazioni dello stesso fatto considerando le fonti autonome, mentre in realtà un lavoro di maggiore attenzione ti porterà a capire che c'è una sola fonte da cui nascono poi per germinazione tutte le altre propagazioni. Allora a questo punto è fondamentale per lo storico e per il giudice ricostruire da un lato l'autenticità della fonte, quindi individuare qual è la fonte autentica, dall'altro lato individuarne l'attendibilità, ci sono degli esempi molto illuminanti nei saggi di Marc Bloch, lo storico francese, a proposito di come un racconto possa essere alterato da un particolare insignificante, ma di come andando sulle tracce di quel particolare insignificante lo storico e io dico anche il giudice possano sgretolare, smontare un racconto oppure possano conferirli attendibilità. Il narratore invece, ha il dovere di colmare i vuoti della storia con la propria fantasia, da questo punto di vista a volte ci succedono delle cose sorprendenti, lanciamo delle ipotesi in un romanzo e ci rendiamo conto, mentre le lanciamo che sono del tutto destituite di fondamento, sono una fonte circolare arricchita e poi qualche anno dopo la realtà ci smentisce e ci dimostra che le nostre immaginazioni erano più vere del vero e allora il narratore si prende la rivincita sia sullo storico che sul giudice.